La settimana è stata giusta, abbiamo avuto anche la possibilità di rintegrare in gruppo sia De Feudis che Yanga, non abbiamo ancora disponibile Ferrario, ragazzi si sono allenati bene, sono andati col piglio giusto, con la voglia di mettere in difficoltà l'allenatore per le scelte e questo credo che sia solo esclusivamente un bene perché quando c'è competizione, quando c'è una competizione corretta e sana, credo che i benefici siano evidenti sia per la gestione ma soprattutto per la qualità e l'intensità dell'allenamento. Però poi dopo c'è il riscontro del campo, le avvisaglie sono positive ma poi dovremmo essere bravi ad avere lo stesso approccio in una partita che avrà un'atmosfera diversa per cornice di pubblico, per aspettative ma che per noi deve essere vissuta con lo stesso stato d'animo e con la stessa partecipazione emotiva con le quali abbiamo vissuto il derby di Siena o la gara di domenica contro l'Alessandria. Ma al senso della verità ho solo un dubbio, ho solo un dubbio legato a situazioni diverse che si sono venute a creare negli ultimi due giorni, però non sarà molto lontano dalla formazione che ha battuto l'Alessandria. Riconfermerò tra i pali Borra perché ha fatto bene, ha dato serenità al reparto con il suo carattere, con il suo carattere, con la sua qualità nel vivere in maniera molto serena la partita ed erano partite con delle aspettative sicuramente importanti. Quindi come è stata un po' la filosofia mia, come lo è sempre, ma come è stata anche quest'anno, chi fa bene, chi dimostra di meritare di giocare è giusto che continui a farlo. Dovremmo stare molto attenti a non prestare il fianco alle ripartenze avversarie e fare sempre grandissima attenzione sulla difesa preventiva, sulle marcature preventive perché mi aspetto che ci facciano fare a noi la partita e noi non abbiamo mai disdegnato neanche contro le Big o contro l'Alessandria o chi per loro nel fare questo, però in un campo particolarmente veloce che abbiamo già visto in precedenza, considerando che giocheremo a un orario in cui già c'è umidità e considerando che molto probabilmente troveremo una superficie bagnata perché ha messo anche pioggia, dobbiamo stare particolarmente attenti perché è un avversario con grande dinamismo.